Non è ancora emergenza ma sul tratto della SS16 il traffico veicolare in costante aumento a causa dei lavori sull'A14 che inducono diversi automobilisti e autotrasportatori in transito a uscire dall'autostrada e percorrere chilometri sulla strada statale per poi rientrare. Su tutta l'Adriatica si ricorda l'incubo dell'estate del 2019 con la chiusura del tratto abruzzese dell'A14 a seguito dei sequestri dei viadotti e i conseguenti interminabili lavori di ripristino. Dunque in vista dell'estate cresce la preoccupazione dei sindaci costieri che chiedono un'immediata risoluzione al problema. È qualcosa di già visto, ne parlavo ieri col collega di Pineto a margine di una riunione. Purtroppo l'A14 mantiene ancora cantieri a ripetizione e chi ne paga le conseguenze è la statale 16 e siamo noi località costiere. Quindi continuiamo a soffrire per la deviazione del traffico e perché molta gente addirittura anche quando è aperta non usa l'A14 perché tante sono le insidie e un continuo zigzagare per i cantieri in successione. Sarà sicuramente necessario mettere in sicurezza le gallerie eccetera, però c'è da tenere presente che siamo in piena stagione estiva praticamente e non possiamo continuare con questa interruzione di un servizio fondamentale. Non credo che questa A14 dà una buona immagine della costa terramana che accoglie quasi il 70% del turismo balneare abruzzese. Evidenti ragioni di opportunità impongono una graduazione dei lavori in modo tale da tenere l'autostrada sempre aperta per questo periodo almeno. Questo è essenziale, ripeto, per l'immagine dell'Abruzzo e per il turismo abruzzese.